Sì, questo qua è l'unico titolo che mi mancava per le gare che io potenzialmente posso vincere, quindi sicuramente sono contento, era forse una delle ultime occasioni e spiace per il percorso, stamattina sinceramente quando ho scoperto che il percorso era questo non ci credevo più e magari la cosa da una parte mi ha lasciato un po' più di tranquillità e nulla, visto che poi la gamba c'era e ho detto perché non provarci e poi ovviamente quando capisci che su un terreno che non è andato al tuo riesci a essere con gente che in quel momento è favorita e sulla carta molto più forte di te, ovviamente la grinta sale, la cattiveria agonistica anche ed è poi quella che serve sui finali così combattuti e battagliati, quindi è andata bene.